La targa in ricordo delle cinque vittime della strage di Via Palestro a Milano del 27 luglio 1993 verrà rimossa e rifatta a pochi giorni dalla commemorazione a vent'anni di distanza da quel tragico giorno. Lo ha deciso il Consiglio Comunale nel corso di una seduta ricca di tensioni tra i vari gruppi e anche all'interno della maggioranza tra Partito Democratico e Sinistra. Scomparirà la frase vittime innocenti di un vile attentato e invece al suo posto troverà spazio la nuova dicitura vittime di una strage mafiosa volta a ricattare lo Stato. La proposta era contenuta in una mozione firmata dal consigliere David Gentili del Partito Democratico, presidente della Commissione Antimafia e che ha ottenuto 35 voti a favore. Ricordiamo che nella strage di Via Palestro dove esplose un ordigno di mafia vennero ucciso i tre vigili del fuoco Carlo Lacatena, Sergio Pasotto e Stefano Picerno, un vigile urbano Alessandro Ferrari e un cittadino marocchino Driss Moussafir. Il centrodestra attraverso Riccardo Decorato chiede che in piazza Fontana venga rimossa la targa che ricorda l'anarchico Giuseppe Pinelli, posta dagli studenti e dai democratici e ritenuta abusiva dalla destra. In piazza Fontana come noto ci sono due targhe, una del comune che ricorda il ferroviere Giuseppe Pinelli morto tragicamente nei locali della questura di Milano il 15 dicembre 69 all'indomani della strage avvenuta la Banca Nazionale dell'Agricoltura e l'altra invece degli studenti che sottolinea che Pinelli, anarchico, venne ucciso innocente nei locali della questura. Insomma dopo il cambiamento, deciso per la targa di via palestro è probabile che altre iscrizioni commemorative possano venire modificate, naturalmente previo il non facile assenso delle forze politiche di Palazzo Marino.